Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Oram, siamo ad EICMA 2023, ci troviamo allo Stand Caberg, il noto produttore italiano di caschi, quest'anno festeggia un compleanno veramente importante, ben 50 anni di storia dedicati a proteggere i motociclisti, così come facciamo noi di Oram. E per festeggiare questo traguardo molto importante troviamo una novità interessantissima qui in EICMA, parliamo del casco Jet Soho che ho tra le mie mani, parliamo di un Jet intanto omologato secondo la normativa ECE 2206, quindi questo vi fa capire la massima attenzione alla sicurezza di questo casco Jet, ma ha delle soluzioni che non ci aspetteremo di trovare su appunto un casco di questa tipologia. Quindi caschi Jet senza mentoniera, normalmente quello che si cerca di ottenere è principalmente un casco che sia bello, che sia leggero, che sia sicuro e abbia una calotta compatta. Tutte caratteristiche che troviamo su questo Soho insieme a però altre cose che non ci aspetteremo di trovare, vedete la calotta è veramente molto piccola, ma nonostante questo c'è l'immancabile visierino parasole. Inoltre abbiamo gli estrattori d'aria nella parte posteriore, oltre alle classiche prese sulla parte frontale anteriore, estrattori d'aria che normalmente non sono sempre presenti su caschi di questa tipologia, quindi massima attenzione all'aerodinamica. Altra cosa particolare, questa visiera molto pronunciata sul davanti non si tratta di una scelta estetica, ma di una scelta legata alla sicurezza. È vero che è un casco jet, quindi non ha una mentoniera, non è assolutamente un integrale, ma realizzare una visiera di questo tipo, con questo ispessimento nella parte inferiore, queste rastremature laterali che evitano che la visiera possa spanciare, andiamo a ottenere una protezione comunque per la zona del mento del motociclista. Qualcosa comunque di molto importante che normalmente non si riesce facilmente ad ottenere su un casco di questa tipologia. Gli interni sono di nuova concezione, hanno un ampio spazio per le orecchie e sono già predisposti per il montaggio dell'interfono. Quindi una novità molto interessante che ci auguriamo di vedere al più presto sulle strade italiane. Nell'attesa non vi dimenticate di visitare il nostro shop online oramonline.it dove troverete dei prodotti Caberg e di tanti altri marchi di abbigliamento e accessori moto, oppure veniteci a trovare nello showroom di Modena in via Emilia Esc 935. Appuntamento al prossimo video, sempre con Ora e Always Riding. Ciao! Ciao!